per una nuova puntata del ciclo di Catechesi Adamo e la vita nella divina volontà che è giunto alla ventesima puntata per quanto riguarda il numero delle trasmissioni e al ventiquattresimo volume per quanto riguarda gli estratti dei brani che stiamo leggendo e meditando insieme che ci parlano appunto di questo splendido tema preavverto subito che avremo questa sera un brano molto molto breve di cinque righe in tutto ma molto intenso ed un altro brano invece molto più lungo e assai significativo soprattutto per i riverberi esistenziali che la comprensione di questo brano ha per chi desidera imparare a vivere nella divina volontà e comprendere che cosa questo significa chiaramente ci fondiamo sia io che devo leggere e provare a commentare sia noi che stiamo ascoltando con la divina volontà supplicando di operare lei in noi e passiamo subito alla lettura di questo primo brevissimo estratto del 4 aprile 1928 come accennavo entriamo nel volume ventiquattresimo Adamo si sottrasse alla nostra volontà divina per contentare la sua umanità e con ciò si disordinò tutto perdette il suo stato d'origine ed io dovetti fare la stessa vita no io dovetti fare la stessa via scusate scendere in una umanità per riordinarlo di nuovo e tutto ciò che feci Nissa doveva servire come rimedio medicina esempio specchio luce per poter mettere in ordine l'umanità decaduta fine della citazione brevissima brevissima ma basilare anche per la buona comprensione di quello che viene subito dopo che vedremo è del 16 aprile quindi un arco temporale molto ravvicinato attenzione alle due parole chiavi ci abbiamo l'ordine e il disordine sottrarsi alla volontà divina vuol dire disordinare tutto cosa bisogna fare a questo punto riordinare tutto mettere in ordine l'umanità decaduta allora vedremo nel brano seguente altri concetti bellissimi fondamentali altri termini veramente spettacolari ma l'ordine è un punto assolutamente fondante della vita nella divina volontà nella vita nella divina volontà tutto è riordinato dice Gesù e cosa significa l'ordine l'ordine che insieme alla misura e alla proporzione sono secondo il libro della sapienza i costitutivi della bellezza cioè una cosa è bella quando è ordinata proporzionata e armoniosa l'ordine è assolutamente fondamentale lo possiamo comprendere facilmente dagli esempi esterni per poi passare agli esempi interni facciamo sempre qualche esempio io posso fare una piccola parentesi stamattina mi sono visto mentre all'inizio della giornata un estratto dell'omelia del Papa di ieri a Santa Marta e proprio mi sono veramente sono andato in estasi perché mi ha rifatto uno stesso esempio esempi molto simili non voglio insomma ad alcuni che ho fatto io anche alcune cose parlava del Vangelo di ieri della vedova importuna e diceva quanto è importante essere generosi nei confronti del prossimo perché questa vedova aveva dato due spiccioli allora dice che tutti devono essere generosi allora dice ma padre io non ho i soldi che arrivano a fine del mese ma ti avanzerà qualche monetina quando vai a fare la spesa e fallo con quello la generosità oppure dice proviamo a fare un giro nel nostro guardaroba io ho un po' sta fissa ogni tanto scherzo che uno dei grandi misteri è quante paia di scarpe hanno certe donne dentro al guardaroba e diceva va a vedere quante paia di scarpe dice 5 10 20 40 un po' troppe insomma danne qualcuno ai poveri insomma ecco questi sono esempi evidentemente di disordine che ce li fa ho 40 paia di scarpe capito che ce fai che ce fai con 80 paia di scarpe oppure dice apri l'armadio quanti vestiti non ti metti mai che stanno a fare lì dentro noi non ci pensiamo a queste piccole cose ma non sono tante piccole cose perché l'ordine è andato anche da queste piccole cose l'ordine esteriore per esempio come teniamo i nostri ambienti come teniamo i nostri ambienti di lavoro come teniamo la casa e soprattutto come teniamo poi l'interiore della nostra anima cioè l'ordine significa che nella nostra vita per esempio adesso ne parlai a suo tempo quando su Radio Buon Consiglio feci il ciclo di catechesi adesso facciamo spot non scrivo gli acquisti chi sono io per poter amare nell'ultima parte quindi quando tu hai capito bene il tuo passato le cose che hai vissuto quindi le situazioni in cui devi mettere punto ordine riconciliarti con la tua storia fare la confessione generale che ne so perdonare il prossimo tutte queste cose qui bene a questo punto dobbiamo cominciare a riordinare la vita e nel riordino della vita ci sono alcuni punti fondamentali la tua vita deve avere un senso fondamentale un orizzonte il senso che tu lo persegui dentro uno stato di vita e all'interno di una scala di valori 1 2 3 4 5 6 7 chi viene al primo posto nella tua vita questo è l'ordine no dice Dio viene al primo posto veramente viene Dio al primo posto questo tu lo devi lo devi dimostrare non lo devi dimostrare a nessuno lo dimostrare innanzitutto a te stesso anche se in uno dei brani insomma che abbiamo messo noi dobbiamo anche dimostrare in un certo senso a Dio abbiamo visto anche qualche puntata precedente il valore e l'importanza delle prove come Dio prova una persona prima di fidarsi di lui perché uno che non è provato non vale niente non vale viene Dio al primo posto lo dimostriamo viene Dio al primo posto Dio viene al primo posto veramente davanti a tutti e a tutti al secondo posto viene veramente una una persona che è sposata è chiaro che dopo Dio viene una famiglia viene ma se io trascuro la famiglia per esempio per un hobby se non è dice voglio andare a fare una partita a tennis nessun problema Dio ti benedica ecco ma la partita a tennis la fai nei ritagli di tempo se la partita a tennis significa come dire sottrarre un momento qualificante alla famiglia o andare a vedere la partita che ne so io è un disordine la nostra coscienza ci avverte quando c'è qualche disordine nella nostra esistenza no ordine e riordinare ordine perso quindi disordinare tutto e rimettere in ordine tutta la vita di Gesù allora attenzione tutto ciò che feci in essa doveva servire a mettere in ordine l'umanità decaduta come dice Gesù allora usa questi termini come rimedio come medicina come esempio come specchio e come luce questi cinque termini quindi rimedio quindi Gesù ha rimediato quindi ha fatto tutto il contrario di quello che abbiamo fatto noi disordinando tutto la sua vita è stata una perfezione assoluta una marrea di atti compiuti non solo per sé ma anche per tutti dove c'è tutta la vita tutta la storia della razza umana e di ogni singola persona riordinata dentro la vita umana di Gesù ok questa è una cosa che ormai dovrebbe essere abbastanza assodata per chi conosce un pochino la vita nella divina volontà ancora come medicina cioè siccome noi siamo malati di disordine dobbiamo essere riordinati le medicine noi sappiamo le medicine fondamentali sono quelle date da quell'ordine perfetto che sono i sacramenti e anche noi nell'uso dei sacramenti dobbiamo essere ordinati bene capite ci deve essere un ordine anche nella nella vita sacramentale per esempio ogni quanto ti confessi questa è una cosa che non va fatta così d'accordo perché ci sono dei parametri cioè per una discreta vita cristiana la confessione deve essere frequente più o meno al massimo mensile per una vita cristiana che voglia tendere alla perfezione la confessione deve essere secondo le regole di tutti i maestri di spirito nessuno escluso settimanale e su questo dobbiamo stare attenti d'accordo la comunione dopo San Pio X quando mi faccio la comunione se vado a messa la domenica secondo madre chiesa devi metterti in condizione di poter fare la comunione sempre quindi costruire la vita dalla grazia di Dio certamente se vuoi diventare santo la comunione deve essere un po' più frequente possibilmente quotidiana per chi può d'accordo sempre per chi può e anche ordinare organizzare la giornata perché ci esca la messa in certe situazioni non lo so bene che può essere molto molto difficile quando una persona è sposata c'è il lavoro c'è la famiglia c'è i figli sta in un paese dove magari la messa la fanno solo il pomeriggio non la fanno la mattina non c'è ampia possibilità di scelta certo che può essere molto molto complicato ecco ma se uno sta attento a come organizza la giornata vedete un problema di ordine magari pur tribolando riesce a farci uscire alla messa capiamo no medicina esempio ecco noi dobbiamo sempre pensare che Gesù è un esempio cioè vivere nella divina volontà per certi aspetti significherò lo sto dicendo in tutti i grandi modi possibili prendere esempio da Gesù assumere un tratto uno stile un modus vivendi che sia uguale al suo Gesù era povero io devo avere uno stile di vita non posso come faccio a stare in mezzo al lusso d'accordo se Gesù se segue una persona che era povero Gesù era mite ma faccio io ad essere iracondo aggressivo o irrispettoso nei confronti Gesù era umile ma faccio io ad essere superbo arrogante sprezzante altero sdegnato eccetera come va sono tutti disordini Gesù ha riordinato quindi certamente come rimedio quindi ha riparato e ha fatto per noi quello che dovevamo fare come medicina per guarirci dalle nostre ma anche come esempio noi a Gesù ci dobbiamo pensare e dobbiamo ispirarci al nostro al suo stile al suo modo di fare poi specchio specchiati d'accordo in Gesù specchiati lo specchio è simile all'esempio lo specchio io in Gesù mi devo poter specchiare d'accordo posso dire che io in Gesù mi cerco di specchiarmi quindi di fare in modo che le immagini capite tra l'immagine e l'immagine riflessa ci sia una reale concomitanza Gesù dice a chi vede me ha visto il padre il cristiano è l'alter cristus secondo i i padri della chies chi vede un cristiano dovrebbe vedere Gesù Cristo chi vede un devoto della Madonna le persone che si freggiano di essere devoti della Madonna vedendo il devoto della Madonna deve vedere i tratti di Maria mi deve vedere uno specchio e poi come rimedio medicina esempio specchio e luce luce la grande luce che il Signore ci porta perché è nella luce che l'ordine noi lo possiamo realizzare la luce la comprensione il discernimento per dare la giusta priorità nella nostra vita per rispettare le giuste gerarchie nei valori nelle scelte noi abbiamo bisogno di essere illuminati perché nell'oscurità se uno dice che faccio non si orizzonta non capisce adesso vedremo come faccio a vedere tutto questo adesso vedremo il secondo un po' più lungo capitolo che ci darà diverse dritte anche in ordine alla realizzazione di questi primi obiettivi allora siamo sempre nel 24esimo volume stavolta 16 aprile 1928 un po' di pazienza perché il brano è abbastanza lunghetto la parte saliente fondamentale è la seconda la prima è un po' più introduttoria e preparatoria dice sempre Gesù il tutto sta nell'esporsi al sole del mio volere e ai raggi ardenti e fuggili delle sue conoscenze farsi investire da esse carezzare dalla sua luce riscaldare dal suo calore portare dall'impero del suo vento per fare che il regno della mia volontà venga sulla terra vedi anche nell'ordine naturale ci sono queste prerogative se ciò può fare la natura animata dalla potenza del mio volere molto più esso lo può fare sulle anime che si faranno investire dalla mia volontà essa col suo calore le plasmerà di nuovo distruggerà il guasto e alitandole con la sua luce le svuoterà dal peso dell'umano volere dando loro la natura primiera e se da Adamo che corruppe il germe del suo volere quando peccò la mia volontà non si fosse ritirata la luce e il calore del mio volere lo avrebbero subito rifatto ma giustizia volle che lui sentisse gli effetti del suo germe corrotto e perciò ritirandosi la mia volontà non sentì più né luce né calore nell'anima sua da potersi rifare per mantenere incorrotto il germe del suo volere non è forse il regno questo della mia volontà che vuole ritornare di nuovo in mezzo alle creature e più che sole togliere la corruzione al loro germe per poter regnare e dominare in mezzo all'umana famiglia figlia mia la volontà divina questa attenzione come pronunziò il fiat nella creazione formò l'eco attenzione a questo termine questo eco divino come risuonò nel vuoto di tutto l'universo portò con sé tutte le nostre qualità e riempiccia le terra del nostro amore questo eco come usciva dal nostro fiat creava le cose più belle cieli sole venti mari e tante altre cose attenzione l'eco rimase in ogni cosa creata e mantiene la vita dell'azzurro cielo con tutte le stelle la vita del sole continuando il suo eco di luce e di calore lo conserva pieno di luce integro e bello come lo creò sicché ogni cosa creata ha come principio e come conservazione l'eco del nostro fiat attenzione al termine eco perciò conserva attenzione di nuovo l'ordine la potenza l'armonia la magnificenza delle opere nostre quando la divinità vuole operare e riprodurre anche la nostra stessa vita il nostro fiat forma l'eco e l'eco forma ciò che noi vogliamo ora questo eco risuonò nella creazione dell'uomo il quale col sottrarsi al nostro volere e attenzione perdette l'eco non sentì più dentro e fuori di sé il suono dolce potente armonizzatore che aveva virtù di conservarlo come era uscito dalle nostre mani creatrici attenzione e perciò divenne debole disarmonico prima abbiamo visto il disordine ora vediamo la disarmonia ho detto prima che ordine armonia e proporzione sono gli elementi costitutivi di ciò che è ontologicamente bello povero uomo senza l'eco del nostro fiat che gli aveva dato la vita non si seppe più riordinare ancora il termine non settiva più in sé l'eco della luce del suo creatore l'eco dell'amore l'eco dell'ordine l'eco della potenza l'eco della sapienza l'eco della dolcezza e l'eco della bontà divina guardate quanti echi l'uomo senza l'eco del nostro fiat divenne come un bambino che cresce senza mamma che non ha chi gli imbocchi le parole chi gli insegni le opere i passi oppure come uno scolaro che non ha il maestro che gli insegni a leggere a scrivere e se qualche cosa farà da solo lo farà in modo disordinato tale è l'uomo senza l'eco del nostro fiat come un bambino senza mamma come uno scolaro senza maestro ora l'anima a seconda che chiami la mia volontà come il principio di tutto l'essere suo così sentirà il suo eco divino questo eco la richiamerà nel suo principio e risonando in essa la riordinerà di nuovo e come il nostro eco si ritirò dall'uomo perché si sottrasse dalla nostra volontà divina così con riconoscerla amarla e non volere altro che il nostro fiat divino ritornerà l'eco della nostra volontà in mezzo alle creature è proprio è proprio questo il regno del nostro fiat il ritorno del nostro eco divino non l'eco lontano che spesso ha risuonato all'udito dell'uomo da che si sottrasse al nostro volere ma l'eco continuo che risuonerà nel fondo delle anime e che trasmutandole formerà in loro la vita divina restituendo loro l'ordine come erano state create questo brano è molto bello molto importante e al tempo stesso molto profondo adesso lo ripercorriamo cercando come sempre di comprendere al massimo possibile quello che leggiamo perché c'è una frase chiave che poi riprenderemo allora tutto questo cioè come diventa realtà come come parte dentro di noi allora la divina volontà bisogna anzitutto conoscerla e riconoscerla e comprenderla per quanto possibile da questo nasce l'amore perché noi non possiamo amare ciò che non conosciamo dall'amore nasce il desiderio cioè io voglio questa cosa ma veramente non a chiacchiere ma più di qualunque altra cosa della mia esistenza e quindi nasce l'avversione verso ciò che da questo in qualunque modo mi distacca e mi distorga il problema è che la divina volontà deve venire a regnare dentro di noi perché se fa questo poi ci pensa lei a trasmutare capite anche ecco perché un punto fondamentale è trovare le forme e i modi continui per chiamare la volontà dentro di noi ed invitarla ad operare in noi ecco la differenza che c'è tra il farla e il viverla si tratta di chiamarla perché a poco a poco si formi il suo regno in noi qui dice possiamo continuare possiamo ricominciare a sentirne l'eco allora ho detto che il termine chiave di questo di questo passaggio è l'eco immaginiamo l'immagine che Gesù fa è questa qua quando c'era il nulla dell'universo uscì dall'altissimo una sola parola ecco perché la diciamo sempre anche noi che è fiat cioè sia fatto il verbo fare è proprio ciò che caratterizza la creazione perché se voi aprite San Tommaso d'Aquino sapete no il verbo eterno del padre come diciamo nel credo in latino genitum non fatto cioè generato non fatto letteralmente poi in italiano si traduce non creato perché perché creare è fare dal nulla quindi quando nel nulla che c'era fuori di sé Dio pronuncia la parola sia fatto fiat questo significa in latino fiat significa letteralmente si faccia sia fatto spingiona l'universo sappiamo che il fiat ricordiamo sempre il fiat supremo è un atto unico perché è unico come è semplicissimo l'essere di Dio ma questo atto unico poi si moltiplica e si diversifica in una infinità di atti ma veramente in un'infinità che danno vita alla pluriformità complessa della creazione pensate che ogni angelo per esempio gli angeli sono miliardi e sono le creature più nobili è chiaro che ogni angelo è un determinato fiat d'accordo è un atto ben preciso di volontà divina creare quel certo spirito fatto in quel certo modo sapete che gli esseri umani anche anche noi siamo tutti quanti differenti cioè la cosa bella che fa di te un unicum è la nostra peculiare personalità per cui anche come dire questo è una mia opinione personale che mi mi sta sovvenendo con una certa chiarezza proprio in questo istante no per esempio vivere bene nella divina volontà significa anche tirare fuori noi stessi cioè è divina volontà che la mia personalità capite esista così com'è io molte volte ho detto in qualche altra meditazione non mi ricordo no per esempio se uno comincia a vivere nella divina volontà comincia a pregare sul serio questo ci si può mettere la mano sul fuoco la preghiera diventa preghiera ma preghiera capite non movimento di labbra o preghiera vocale e l'anima ne sente proprio il bisogno di sprofondarsi nella preghiera profonda dentro l'orizzonte della preghiera profonda si instaura un rapporto particolare con Dio e Dio vuole sentire la tua voce Dio vuole sentire i tuoi affetti Dio vuole sentire il tuo modo di porti il tuo modo di esprimerti il tuo modo di essere il tuo modo di amare proprio il tuo che è diverso dal mio perché perché tu sei un atto della sua volontà in quanto hai un essere preciso determinato cioè per quanto in molti possano essere felici di uno come me non è mai esistito nessuno né mai esisterà nessun altro altri potrebbero esserne tristi però una cosa è certa come te non c'è nessuno allora uno qua è superbo no ma questa è la è la realtà allora abbiamo visto la volta scorsa se ricordiamo dice che cosa è successo sottraendovi dalla divina volontà noi abbiamo tolto a Dio la gioia di vederci felici non solo abbiamo tolto a Dio la gioia di vedere me che sono un atto della sua volontà creato per amore perché sia felice felice vuole vedere felice me personalmente perché se tutti gli altri se tutto il resto del mondo fosse felice ma non fossi felice soltanto io questo è un problema un problema durante la veglia di sabato scorso e vi invito a leggerlo per chi non l'avesse seguita in diretta io non lo conoscevo quel brano la prima volta che l'ho letto in diretta davanti a tutti il volume decimo io ho intrapreso la lettura degli scritti adesso non vorrei con questa 1-10 in contemporanea e dall'11 in poi quindi essendo arrivato al decimo diciamo che adesso mi aggancio e quindi proseguirò un po' con la lettura ormai siamo abbastanza avanti insomma con i volumi nel decimo volume mi sembra che l'11 febbraio c'è una qualche cosa di allucinante nel senso che io l'ho letto durante la veglia e non l'ho commentato perché uno scambio di amore profondissimo cioè una sorta di esternazione di una preghiera intima tra Luisa e Gesù il passo dove Gesù gli dice lo sai Luisa che tu sei il mio paradiso sulla terra e tu mi fai felice cioè questo le dice ma che stiamo scherzando io ti faccio felice ma tu sei Dio ma tu stai in paradiso ma come faccio a farti felice io il paradiso sulla terra ma che dici abbia di sentire la spiegazione che gli da Gesù abbia di sentire la spiegazione lo prendo un attimo al volo perché Gesù spiega in questo modo dice guarda non c'è cosa creata che non abbia vita dal mio cuore tutte le creature sono come tante corde che escono dal mio cuore e che hanno vita da me ecco l'individualità unica e il fatto che ogni essere umano è un atto della divina volontà attenzione di necessità e naturalmente tutto ciò che fanno attenzione a queste cose si ripercuote nel mio cuore fosse anche un movimento di conseguenza se fanno male se non mi amano mi danno molestia e continua molestia quella corda la tua corda è la mia corda risuona nel mio cuore suoni di dispiaceri di amarezze di peccati e vi forma suoni lugubri da rendermi infelice per parte di quella corda dico ho vita che esce da me invece se mi ama ed è tutta intenta a contentarmi quella corda mi dà continuo piacere e vi forma dei suoni festosi dolci che armonizzano con la mia stessa vita e per parte di quella corda sentite le parole io ne godo tanto fino a rendermi felice e a godere per causa sua il mio stesso paradiso compri il resto lo possiamo leggere chi lo desidera volume decimo 8 febbraio 1911 cioè io non me la sono sentito perché dopo subito dopo questa premessa cominciano gli scambi poi io sono rimasto senza parole dico ma che ti metti a commentare qui cioè o qualunque parola guasterebbe una cosa di questo genere allora si tratta come comincia qui di esporsi al sole del divin volere cosa vuol dire avete vincolo credo che l'abbiamo già fatto questo esempio qualche altra meditazione tanto non fa niente mia madre diceva sempre aiutando i romani repetita juvent allora chi si vuole abbronzare l'estate va al mare se mette al sole se no non ti abbronzi allora qui il paragrafetto comincia il tutto sta nell'esporsi al sole del mio volere come ti fai a esporre devi leggere lo devi conoscere non solo leggere devi anche meditarlo io personalmente lo faccio per questo che faccio anche le meditazioni pubbliche perché c'è più di qualcuno che me l'ha chiesto di farlo in questo modo allora leggere e meditare perché tu queste cose devi proprio assimilare devi rimanere a bocca aperta esporsi al sole del divin volere perché Gesù ha fatto scrivere tutti quanti questi volumi a Luisa perché ti deve dare una montagna di informazioni e deve dirtelo in tutte le salse tutti quanti modi possibili anche perché noi siamo tutti quanti diversi magari a me mi colpisce e mi lascia senza parole un testo e a un altro non gli fa ne caldo ne freddo gli lascia senza parole un altro testo che a me magari sì bello ma non mi fa tutto quanto sto granché esporsi ai raggi del suolo del mio volere ai raggi ardenti e fuggiti delle sue conoscenze farsi investire da essi bellissimo queste immagini carezzare dalla sua luce riscaldare dal suo calore portare dall'impero del suo vento per fare che il regno della mia volontà venga sulla terra anzitutto in chi l'ascolta io dico è impossibile io ritengo impossibile insomma una persona che legge certe cose e ci crede è impossibile che non se ne innamori è impossibile perché quello che Gesù qui spiega illumina promette è quanto di più bello si possa neanche si possa immaginare perché io prima di conoscere queste cose ma non ci pensavo nemmeno lontanamente capite ma io proprio non mi passavo neanche per l'anticamera del cervello guardate ma sicuro insomma che pur avendo comitato il sacco di disastri nella 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 vita essendo un po' romo però come dice San Paolo io sono stato afferrato da da Cristo insomma io sono diventato predo un pochino per per vocazione quindi ci tenevo a lui insomma volevo imparare a conoscerlo meglio a servirlo ma sono letto questo mondo e quell'altro insomma perché proprio con il desiderio di come si va a servire meglio il Signore come si va a essere santi che ne so io che faccio capite quindi mi sono letto tutti i colori tra vite scritti desanti destra e sinistra ma queste cose che non le avevo viste mai può darsi che ci saranno di molto di molto meglio ma alcune cose non ci stavano come immaginavo allora è chiaro che se uno cioè però non così capite cioè questa è una passione che ti devi un attimo un attimo prendere no una passione che poi diventa veramente vita e quando questa diventa vita cioè alla fine se tu vai al mare ti metti sotto al sole ne hai fatto soltanto stendi sotto al sole e poi ti abbronzi per forza cioè bisogna un pochino vivere quando si comincia a vivere a questa certamente poi si fa tutto quello che dobbiamo fare dal canto nostro per cooperare con questa azione quando dice comincia una trasmutazione quindi una trasformazione e l'anima se ne accorge di qualcuna di queste cose le vede ma non è che dice come si mette a fare il superbo no non si tratta di fare il superbo tu vedi alcune cose che prima non c'erano non le vedevi magari da tante cose uno c'ha io ognuno c'ha gli affari propri insomma alcune cose alcuni aspetti ci ho combattuto una vita insomma per cercare di addrizzarli di correggerli di disbustare sì con vent'anni di sputamenti di sangue come dire ci fai tanto così ma qui con molto con con molto meno tempo a meno che non sia una pia illusione uno rimane con due occhi ma che è successo che è successo capite qui non si tratta qui è tutta gloria del fiat capite noi veramente non c'entriamo proprio niente e quando accadono tu veramente ti rendi conto che tu non c'entri proprio niente la cosa fondamentale è che bisogna cominciare a smontare ma smontare perché veramente gli psicologi usano un termine perché uno la percepisce come ego aliena dicono così la propria volontà la propria volontà che ordinariamente da tutti gli uomini è percepita altro termine psicologico come ecosintonica cioè io devo fare quello che dico io d'accordo che bello se potessi fare tutto quello che 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 mi pare la grande luce che arriva e che poi se tu cominci ad assecondarla lo vivi cioè tu non devi fare cioè ogni cioè ogni mortificazione ogni strumento che ti pinge a lasciare la tua volontà se tu ti lasci come di distruggere in questo modo sperimenti le più grosse delizie del lo vedi in te lo vedi bisogna 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 fare che cosa succede guardate i termini che usa se ti fa investire dalla tua volontà se ti metti al sole se ti vai a bronzare che succede che col suo calore ti plasma di nuovo attenzione distruggerà il guasto lo distrugge la forza della divina volontà lo distrugge e la scuoterà dal peso la svuoterà non la scuoterà dal peso dell'umano volere l'essere svuotati di questo non c'è più e te senti leggero come la rondine come non ti sei sentito mai campi senza voler più imporre la tua volontà al prossimo è bellissimo senza volere che gli altri facciano quello che dici tu bellissimo senza volere che gli altri te diano sempre ragione facciano tutto se conformino alle tue idee eccetera eccetera cominci a ascoltare il prossimo a rispettare il prossimo che bello la pensa diversamente da me cose che ordinariamente negli esseri umani non accadono capite non non c'è non ti senti parlare male attaccare ma non ti passa neanche perché perché devo fare queste cose perché che 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 senso c'ha quindi bisogna bisogna cominciare a viverle è un'operazione divina questa qui come faccio a favorirla devo mettermi al sole del divino volere devo cominciare a fare attenzione a questa eco dice gesù pronuncia il fiat stavo dicendo e si sente fiat allora tutto quello che noi vediamo compresa la mia persona è un eco d'accordo sappiamo tutti che cos'è un eco no quindi fiat vuol dire che c'è un posto dove quel fiat rimbomba è che imparare andare a prendere gli atti della divina volontà sentirli girare eccetera eccetera e imparare a riconoscere perché l'ego è sempre del fiat ma come dire c'ha delle tocchi delle tonalità delle cadenze distinte è la pluriformità la varietà della della creazione no l'ego è rimasto in ogni cosa creata però che cosa fa mantiene in vita l'azzurro del cielo la vita del sole le stelle eccetera quindi si pluriforma in maniera definita no pensate quando uno entra bene dentro queste cose che tipo di rapporto interiorizza con il prossimo se ci pensa veramente io ho davanti un eco del fiat divino certamente molte volte purtroppo il prossimo perché mentre nella creazione non è tanto difficile se uno sgombra un pochino il campo e la testa vedere gli occhi del fiat nelle creature umane purtroppo sì perché perché la nostra volontà ci mette una corteccia una scorza una zavorra una montagna di blindature di cose varie che tu quasi non lo vedi più il fiat divino capite molte volte si vede se avete un'opera mostruosa se vede l'eco della bava del diavolo insomma non si vede più però c'è c'è e come mai che io non sento più l'eco del fiat nelle persone non spiega a gesù quest'eco risuona nell'elagazione dell'uomo il quale col sottrarsi al nostro volere perdete l'eco anzitutto non lo sente più dentro di sé dentro e fuori di sé dentro e fuori di sé l'eco del fiat dentro di te se tu lo senti ti farà percepire in maniera unica d'accordo divina quanto Gesù Maria la Santissima Trinità ti ama lo senti cioè lo vivi non lo puoi spiegare ma lo vivi e fuori di te lo ricominci a sentire cioè tutto quello che ti capita intorno ma tutto 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 perché è così proprio tutto tante volte ho raccontato delle volte ma anche una sciocchezza anche una stupidaggine cioè noi siamo circondati di atti di amore divino non li sappiamo riconoscere e non li sappiamo riconoscere perché è sempre la nostra volontà che deve fare sempre come ci pare capite è così cioè io vedo nella mia vita da sacerdote non lo so una persona che non viene o che viene dieci minuti più tardi cioè sono se uno fa attenzione capolavori divini come la divina volontà veramente a volte incastra tante cose cioè è incredibile cioè tu veramente dici ma ma è ma è veramente così un giorno dici ma vabbè boh vabbè facciamo pinta che è così però può essere pure che sono strane coincidenze il giorno dopo facciamo pinta è così poi non può essere non è possibile come tutte le cose sapete qual è la cifra che dà il valore reale alle cose ce n'è una sola il tempo il tempo quanto dura se una cosa va avanti e bene nel tempo se una cosa col tempo crolla non va il tempo allora quando l'uomo si sottrae al volere divino non sente più l'eco non lo sente più da nessuna parte non vede più Dio da nessuna parte diremo noi nel parlare comune la gente Dio non lo vede da nessuna parte si pensa che chi crede in Dio è scemo sta ancora a far retro sta ancora alle credenze preistoriche ora siamo arrivati nel ventunesimo secolo stiamo ancora a pensare a Dio poveracci cioè nella capoccia loro è tutto quanto normale perché non lo sentono l'eco d'accordo non lo sentono più allora allora l'uomo senza l'eco del nostro Fiat che gli aveva dato la vita ma povero uomo divenuto debole e disarmonico l'armonia è un'altra caratteristica completamente divina l'armonia e pensiamo per esempio anche non soltanto all'armonia interiore che possiamo e dobbiamo avvertire ma pensiamo anche all'armonia per esempio nei rapporti interpersonali l'armonia non è difficile non è affatto difficile è difficile per chi per chi campa di volontà propria ma non è affatto difficile dentro l'armonia per esempio c'è un principio importantissimo molto insegnato anche dal caro Papa Francesco l'ascolto del prossimo noi non ascoltiamo il prossimo quando è venuto qui un po' di tempo fa che è stato invitato dal mio vescovo come gesto di cortesia e come gesto di stima anche per il fatto che era diventato cardinale il vescovo emerito di questa chiesa che è il cardinal Petrocchi è venuto a fare una lezione bellissima molto molto semplice come nel suo stile ma dove però portava noi a comprendere come un problema grosso dell'uomo che non ascolta non ascolta né Dio ma non ascolta neanche il prossimo noi il prossimo non lo ascoltiamo spesso e volentieri prima ancora che inizia a parlare abbiamo già completamente giudicato l'abbiamo già completamente stecchito abbiamo già tutti quanti i nostri pregiudizi preconcetti capite e quando invece proprio questo è stile cristiano ti ascoltare tutti ascoltare da Dio ascolto tutti e anche chi sbaglia o chi dice cose errate o incomplete io se vivo in questo mondo so che anche da quello c'ho da imparare una persona che la pensa diversamente da me che ha posizioni diverse dalle mie d'accordo sotto tutti i punti di vista ecclesiali sociali culturali professionali politiche io l'ascolto c'è ma come tu sei di destra e ascolti uno di sinistra tu sei di sinistra e ascolti uno di destra se vivi in questo mondo sì e senza paura d'accordo e se c'ha qualche cosa magari ragione c'ha ragione capito cioè quando si vive in questo mondo un mondo che è caratterizzato dall'armonia si vive anche una profondissima libertà guardate che gli schieramenti le faziosità cioè io per grazia di Dio io ringrazio il Signore perché ho potuto conoscere anche a livello ecclesiale mondi completamente all'opposto l'uno dall'altro mondi che verrebbero chiamati con terminologia moderna i balguardi del modernismo d'accordo o del progressismo e completamente dall'altra sponda sono contento di quello che ho potuto imparare osservando ascoltando e vedendo questi mondi attenzione all'armonia attenzione all'armonia quando tu l'altro non l'ascolti tu non stai in pace non stai nella divina volontà non stai riconciliato perché se io sto nella verità sto in Gesù non ho paura di ascoltare al prossimo non ho paura di concedere al prossimo il vero che dice anche se è diverso da me non ho paura di essere messo in crisi dal prossimo non ho paura di essere scalzato dal prossimo derubato del prestigio dell'onore dell'autorità non ci stanno queste cose non ci stanno più San Paolo dice se uno in Cristo è una creatura nuova le cose di prima sono passate ci sono molte espressioni di San Paolo che le usa chiaramente attribuendola a Cristo che si possono magnificamente traslitterare con l'ingresso nel regno del di nivolere se uno entra in questo mondo alcune cose di prima non ti appartengono proprio più non le riconosci più non le vedi più come tue non ci stanno più allora quest'uomo debole di sermonico ha verso il fietto non sa più donna sa mettere le mani dice Gesù non si serve più riordinare non sa che santo votasse non sa come raccapezzasse non capisce più niente non sentiva più in sé comincia l'eco della luce del suo creatore Dio è luce lui non ci sono la tenebre scrive San Giovanni le tenebre non ci stanno e l'uomo la luce non avrà più da nessuna parte non sente più l'eco dell'amore l'uomo non si sente amato da Dio non si sente amato da Dio neanche quelli che stanno tutto il giorno a dire che Dio è amore e misericordia perché quando sentite una persona per esempio quella che fanno il misericordismo d'accordo che Dio è buono hanno tutto il paradiso quelli non ci credono all'amore di Dio ve lo dico io quelli dicono queste cose qua perché l'hanno fatta da tutti i colori hanno la coscienza che gli rimorde non vogliono smettere di farli e devono illudersi sulla pazza misericordia ma non ci credono perché l'amore di Dio quando tu lo vivi l'amore di Dio ti porta alla conversione e ti porta a riamarlo e per riamarlo devi lasciare il peccato capito ma non è che tu non è una cosa che fai ah sì siccome adesso ho incontrato il Signore ah devo lasciare il peccato ma il peccato lo lasci punto e basta perché tu non sei scemo capito se tu hai conosciuto l'amore ma la vedi la bruttezza del peccato e lo lasci capito non sentirono più l'ago dell'ordine cioè oggi basta guardarsi in giro capite il disordine è generalizzato sotto tutti i punti di vista qui potreste già parlare una settimana anche facendo come dire scuotere un pochino di sedie degli ascoltatori toccando alcuni punti capite ogni disordine è generalizzato sotto tutti i punti di vista tutti in famiglia un disastro in politica un disastro nella vita personale un disastro adesso non c'è tempo di fare tanti esempi non fatti qualcuno prima il tempo stringe va per scadere non si senti più l'ego della luce dell'amore dell'ordine della potenza della sapienza dove stanno oggi le persone che hanno un minimo di sapienza oggi scienza umana in giro ce n'è quanta te ne pare ma la sapienza una persona sapiente una persona che è capace di dare un consiglio saggio una persona che è capace di avere una veduta ampia portatore di una forma di scienza che tu la senti superiore anche a quella dei grandi scienziati dove stanno perdette l'ego della dolcezza e della bontà divina una persona che vive nella divina volontà la dolcezza è la sua vita ma non soltanto la dolcezza la bontà essere buoni buoni nei confronti di tutti di tutti l'essere buoni Dio è buono buono vuol dire volere il bene fare il bene senza farlo pesare gratuitamente non mi ricordo se era stata Santa Teresa di Calcutta o qualcuno l'ho riletto recentemente non ha idea di quanto bene si faccia semplicemente sorridendo una persona che fa la divina volontà è sempre sorridente col viso corrucciato non ci sta mai è sempre ilare gioviale allegra questo c'era già San Giovanni Bosco che dice la santità consente non stare sempre allegri e non è che è allegro perché 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 è un tonto è uno stolto d'accordo è un deficiente che non capisce niente che sta sempre a ride come se nella vita non ci fossero i problemi non è questo è la santa allegria che viene dal Signore che non è scossa dalla presenza di problemi i problemi si affrontano santamente nella divina volontà ma sapendo che tutto ma proprio tutto sotto sta ai divini voleri tutto e per cui io non mi posso non mi posso e non mi devo angustiare San Paolo scriverà lo sentiremo nella terza domenica d'avvento d'accordo arriverà non angustiatevi per nulla rallegratevi del Signore non angustiatevi per nulla ma come per nulla bellissimo l'esempio che Gesù continua l'uomo senza l'ego del nostro Fiat con tutte queste caratteristiche come un bambino senza mamma che non che qualcuno che non gli imbocca più le parole come uno scolaro senza maestro disastro perso capite gli uomini di oggi sono uomini persi sono proprio persi capite solo che alcuni sono smarriti come dice altri sono perduti lo smarrito è una persona che è molto facilmente raggiungibile dalla luce perché non c'ha la cattiva volontà è soltanto profondamente ingannato quindi appena arriva un fascetto di luce si aggrappa subito l'anima perduta l'anima persa ricordate quando è che nel mangiato era perduto era stato ritrovato era il figlio o il prodigo il figlio era perduto cioè non era un problema che era smarrito non sapeva no no quello era proprio si era andato proprio a infognare nel male sapendo quindi scegliendo di fare una vita contro la volontà del padre ha avuto la grazia di ascoltare il richiamo smarriti o perduti gli uomini del nostro tempo allora il segreto ora l'anima a seconda che chiami la mia volontà come principio di tutto l'essere suo principio di tutto chiamare la sua volontà come principio di tutto l'essere suo e così sente l'eco divino questo si fa non soltanto desiderando soltanto mettendoci al sole non soltanto facendo l'atto preventivo gli atti attuali ma cominciando a cercare in tutti i modi possibili immaginabili la mattina alla sera di fare quello che Dio vuole e che conosco come tale di chiedergli di cercare di non fermare ecco perché è importante la meditazione e anche tutto il percorso preparatorio che Gesù fa nei primi volumi i primi dieci volumi sono mi avviso un capolavoro e vanno meditati bene perché soltanto chi medita bene i primi dieci volumi entra bene nel regno del Dio in volere deve fare tutta questa scuola costante e metodica di addestramento di preparazione chiude Gesù come il nostro eco si ritirò dall'uomo perché fece la sua volontà così con riconoscerla conoscere riconoscerla terminiamo da dove siamo partiti amarla e non volere altro che il nostro fiat divino questo è il punto non volere altro che il nostro fiat divino e basta tu fai questo e ti ritorna l'eco della nostra volontà in mezzo alle creature quindi cominci a risentire l'eco della luce l'eco dell'amore l'eco dell'ordine l'eco della potenza l'eco della sapienza l'eco della dolcezza l'eco della bontà divina e l'eco del fiat in ogni cosa nel creato e in ogni essere umano allora questo regno del nostro fiat il ritorno del nostro eco divino non l'eco lontano che spesso è risonato dal volito dell'uomo da che si sottrasse al nostro volere ma l'eco continuo che risuonerà ricomincia questa musica nel fondo delle anime le trasmuta e formerà in loro la vita divina restituendo loro l'ordine il famoso ordine di cui siamo partiti come erano state create ci lo auguriamo tutti qui ci vuole proprio l'espressione tipica del regno della mia volontà per me e per tutti una santa notte a tutti e perché desidera l'appuntamento su queste frequenze per la prosecuzione di questo viaggio che sarà ancora abbastanza lungo e speriamo sempre più bello e affascinante fiat nella divina volontà la benedizione su di tutti ave maria grazie a tutti Grazie.